La polizia arresta 41enne ricercato in tutta Europa per furti, razzia di scooter e bici in città, il lungomare la zona più colpita, covid, lieve flessione dei nuovi casi, un nuovo decesso nelle marche, festa dell'unità 2021, lunedì arriva a Pesaro il ministro della salute e speranza. Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre e bentornati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale Rossini News. In apertura parliamo di cronaca perché è scattato l'arresto per un uomo di 41 anni fermato dalla polizia a bordo di un'autovettura sulla quale viaggiava insieme ad altri due uomini. Dal controllo di routine condotto dagli agenti è emerso che tutti e tre i soggetti di nazionalità romena si erano resi protagonisti di diversi reati, tra cui principalmente furti. In particolare sul 41enne residente in Germania pendeva un mandato di ricerca e arresto su tutto il territorio europeo a causa dell'elevato numero di furti commessi e della condanna emessa in Romania. Gli agenti hanno dunque arrestato e condotto l'uomo presso il carcere di Villa Fastigi in attesa dell'estradizione. In primo piano ancora la cronaca con un incidente di notevoli dimensioni che si è registrato nella tarda serata di ieri intorno alle 23.30 in via Ponchielli a Pesaro all'altezza del Civico 53 e dei due distributori di benzina presenti sulla strada. Il sinistro ha interessato tre differenti vetture a bordo delle quali viaggiavano complessivamente cinque persone. Il conducente e il passeggero di una delle tre auto, che nel momento dello schianto era ferma probabilmente per completare una manovra di svolta, è stata violentemente tamponata dalla seconda vettura protagonista del sinistro. L'impatto ha fatto sbalzare la macchina sulla corsia opposta, nella quale stava viaggiando in direzione Viaggiolitti, la terza vettura rimasta coinvolta nello scontro. I conducenti di tutti e tre i mezzi sono stati trasportati in ospedale, ma fortunatamente nessuno di questi ha riportato conseguenze serie o di rilievo. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul luogo dell'accaduto, gli animi dei protagonisti coinvolti nel sinistro si sarebbero scaldati nei momenti immediatamente successivi allo schianto. Ingenti invece i danni registrati da tutte e tre le autovetture. E ora parliamo di furti, perché in queste settimane di agosto si sono moltiplicate le denunce in merito alla sparizione di diversi veicoli a due ruote, sia scooter che biciclette. Ad essere preso d'assalto è soprattutto la zona del lungomare. Vediamo il servizio. Non passa più inosservato il bilancio dei furti di moto, scooter e biciclette, che ormai quotidianamente aggiunge alla sua conta nuove denunce presentate a vigili e forze dell'ordine. La razzia dei mezzi a due ruote, motorizzati e non, ha subito un'impennata soprattutto nel mese di agosto e nelle principali settimane di ferie e di vacanze dei pesaresi, con più di un colpo messo a segno al giorno e un totale di diverse decine di mezzi sottratti ai legittimi proprietari. Oltre alle comunicazioni pervenute a polizie e carabinieri, sono aumentati anche gli appelli scritti e pubblicati sui vari canali social dalle persone derubate per provare a rintracciare qualche cittadino che abbia visto raccolto informazioni in merito ai mezzi sottratti. Così è stato per uno scooter Yamaha sottratto proprio ieri sul lungomare Trieste, stesso punto in cui qualche giorno prima era stata segnalata la sparizione di un'onda SH. Stessa storia e stesso modello per un altro motociclo rubato proprio nella giornata di Ferragosto nel versante sottomonte lungo la statale adriatica e all'altezza di Bagni Due Palme. Anche in centro e in altri quartieri fioccano episodi simili, come a Pantano quando a metà settimana è stato segnalato il furto di una moto di più grande cilindrata. In base ai dati riscontrati, le aree più colpite da tale fenomeno rimangono però quelle del lungomare, in particolare dal parcheggio situato al termine di Viale Trieste, che una volta ospitava l'ex mini-golf, fino alla zona di sottomonte, nei punti in cui sostano i veicoli in prossimità dell'accesso alle spiagge. Colpi messi a segno, presumibilmente, da professionisti ormai avvezzi alle pratiche necessarie per sbloccare e deludere il sistema di sicurezza dei mezzi. Secondo diversi cittadini rimasti vittime di questa tipologia di reato, nella maggior parte delle circostanze in cui si verificano i colpi, si registrano anche movimenti e passaggi sospetti di un furgone di cui i ladri farebbero uso per caricare e trasportare l'area furtiva. Una dinamica tale per cui risalire all'identificazione del mezzo e dei malviventi a bordo di questo potrebbe richiedere l'ausilio di dispositivi di videosorveglianza, soprattutto nelle zone in cui i reati si verificano con più facilità. Alla stessa velocità viaggiano anche i numeri dei furti relativi alle biciclette, le cui segnalazioni legate a scomparso o abbandono si ripetono incessantemente. Più decimate anche le possibilità di ritrovamento per le due ruote non elettriche, per le quali i ladri potrebbero adottare lo stesso sistema di carico su un furgone già ipotizzato per gli scooter. L'invito in ogni caso è quello di prestare la massima attenzione nel prevenire episodi del genere, munendosi di validi sistemi di sicurezza per il blocco e la chiusura dei mezzi. E ora la pagina relativa agli aggiornamenti Covid sul territorio. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che rispetto ai 2.576 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 156 nuovi casi di Covid-19 segnalati sul territorio regionale. Di questi, 35 sono stati riscontrati nella provincia di Pesaro e Urbino. Sale di 4 unità il numero dei ricoveri nelle strutture ospedaliere e marchigiane, ma rimangono stabili quelli a Marche Nord. Dopo diversi giorni in cui non avveniva, il Servizio Sanità ha inoltre notificato che nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo decesso legato al Covid. Si tratta di un 65enne deceduto all'ospedale di Pesaro, che però era domiciliato nella provincia di Ascoli Piceno. E ora cambiamo argomento perché è previsto per lunedì l'arrivo in città del Ministro della Salute Roberto Speranza, che inaugurerà l'edizione 2021 della Festa dell'Unità di Pesaro. Sentiamo i dettagli in questo prossimo servizio. La Festa dell'Unità torna dal vivo a Pesaro con una sei giorni di incontri, dibattiti e spettacoli nella cornice di Piazza del Popolo che prenderanno il via mercoledì 25 agosto e andranno avanti fino a domenica 29. Ad anticipare l'inizio ufficiale della manifestazione sarà l'arrivo in città del Ministro della Salute Roberto Speranza, protagonista della giornata di anteprima dell'edizione 2021 e dell'incontro pubblico che avrà luogo lunedì 23 agosto alle 21.15 in Piazzale Collenuccio. Inizieremo la festa con un appuntamento particolare che è quello con il Ministro Speranza che vuole essere proprio l'attenzione massima al tema della salute, condividere e capire dal Ministro anche quelle che potranno essere le prospettive per i prossimi mesi e noi speriamo che siano sicuramente positive e anche ragionare insieme delle misure che si stanno mettendo in campo. Alcune sono anche molto discusse, però ecco servono per poter riprendere la normalità in sicurezza. Quest'iniziativa che è nella tradizione del partito quest'anno appunto si caratterizza anche con questo tema e cioè quello del cercare di riportare le persone al confronto quindi valorizzare la socialità, ritornare anche a iniziative seppur protette e con le regole necessarie in presenza e quindi ecco un ritorno alla normalità che sicuramente è importante ed è un ottimo segnale. Ecco la presenza dei giovani è straordinaria. Noi abbiamo questo contenitore, questo perimetro dei giovani democratici che sta dando grandissimi risultati e questo è un altro elemento che mi fa dire che la festa è sempre un contesto di disperanza. Ci sono incontri politici tutti i giorni, in particolare il 26 avremo con noi Landini, segretario generale della CGL che parlerà del lavoro ai tempi del Covid, il 29 chiudiamo con Matteo Ricci e il sindaco di Firenze Nardella che parleranno dell'Italia veloce e delle prospettive che può avere il Partito Democratico a collaborare con i sindaci e in generale durante tutta la festa affronteremo temi legati al territorio, al ruolo dei sindaci e delle città e anche un po' di politica nazionale, avremo un confronto tra la Morani e la Bernini di Forza Italia e ospiteremo anche degli spettacoli. È opportuno prenotare prima gli eventi, a disposizione già un form online sia sul sito di Pesaro sia sui social a cui semplicemente inserendo i dati si può prenotare il proprio posto scegliendo quale evento e volendo si può prenotare anche attraverso un numero di telefono per chi è meno pratico degli strumenti digitali. In alternativa si può prenotare anche il giorno stesso al banco dell'ingresso se ci sono posti liberi lasciando i dati per il tracciamento. All'ingresso ovviamente sarà richiesto il Green Pass sia per quanto riguarda i dibattiti sia per l'area ristorante dove non serve prenotazione e si arriva al momento ma comunque si verrà verificato il Green Pass. E oltre che all'appuntamento inaugurale dell'edizione 2021 della Festa dell'Unità di Pesaro il Ministro della Salute Roberto Speranza sarà presente anche all'inaugurazione dei locali rinnovati della farmacia comunale Andrea Costa a Pesaro in Via Giolitti 165. All'evento saranno presenti anche il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il Presidente Aspes Luca Pieri. La CNA di Pesaro e Urbino perde uno dei suoi padri fondatori. Si è spento ieri all'età di 89 anni Rino Galli storico artigiano di Montefabbri tra i primi ad aderire all'Unione Provinciale Artigiani trasformatasi poi in CNA. Tra i primi a esprimere cordoglio per la scomparsa di Galli il Segretario Provinciale della CNA Moreno Bordoni il Presidente Michele Matteucci e il Presidente Onorario Alberto Barilari. I funerali di Rino Galli si terranno domani nella chiesa di San Gaudenzio di Montefabbri alle ore 15. E parte da Gradara il tour marchigiano del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che domenica 22 agosto accompagnato dal Commissario Regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti farà tappa in sei città per incontrare amministratori locali e rappresentanti delle associazioni di categoria. La tappa nella provincia pesarese è prevista alla Villa Conventino di Gradara alle ore 10 di domenica. Ed è stata inaugurata questa mattina nella frazione di Pallino lungo la strada provinciale 56 di Montefabbri la scultura di Giannino Calcagnini denominata Verso Nuovi Lidi. L'opera realizzata durante i mesi della pandemia e che vuole comunicare un messaggio di ottimismo e speranza rappresenta una grande oca migratrice nell'atto di spiccare il volo. Il lavoro è stato supportato dal Comune di Urbino. I comuni di Gradara, Tavulia e Pesaro con la collaborazione di Ampi, Pesaro e Urbino inaugureranno venerdì 27 agosto alle ore 18 in località Babucce una lapide nel luogo in cui morirono sette uomini costretti dall'esercito tedesco a lavorare nella costruzione di un fortino della linea gotica. Una lunga ricerca permesso di individuare le vittime e a loro memoria verrà posta la lapide commemorativa. E si terrà invece domani alle 19.15 nel piazzale esterno del Convento del Beato Sante di Monbaroccio la presentazione del libro Sara Matteucci Il mistero della fede bambina edito da San Paolo con prefazione dell'arcivescovo Piero Coccia. Il libro scritto dal giornalista Roberto Mazzoli direttore del settimanale Inter Diocesano Il nuovo amico è candidato al premio letterario Angelo Zanibelli. E saranno tre i concerti che vedranno protagonista l'orchestra sinfonica statale di Mosca a Gradara e Pesaro. Gli eventi nati da una collaborazione iniziata nel 2019 con il Centro Russo di Scienza e Cultura di Roma nell'ambito del progetto Francesca 2021 avranno luogo sabato 21 e domenica 22 nella piazza d'armi di Gradara e lunedì 23 il giorno dopo la conclusione del ROF al Teatro Rossini di Pesaro. Il progetto unisce le celebrazioni per il settecentesimo di Dante la cultura russa e la musica di Rossini. I dettagli in queste interviste. Sono 700 anni della morte di Dante e Gradara non poteva mancare a fare la sua celebrazione che si concentrerà e si sta concentrando sul personaggio più famoso della Divina Comedia che è Francesca da Rimini. Proprio lei proprio Francesca infatti è il tema che unisce il motivo trainante di questo tournée dell'orchestra Sifoca Statale di Mosca che abbiamo presentato proprio poco fa e a Gradara ci saranno due concerti il 21 e il 22 di agosto con i due più grandi compositori russi Tchaikovsky e Rekhmanov che affascinati dal mito di Francesca da Rimini alla fine dell'Ottocento hanno composto due opere a lei dedicate. Avremo un'orchestra al complito che metterà in scena le due opere di Tchaikovsky e di Rekhmanov a Gradara. A Pesor invece cambia il repettorio e sarà un amaggio al genio di Giochino Rossini. È possibile acquistare i biglietti per Gradara sul sito sulla pagina Facebook del Comune sul sito ufficiale del Comune il costo è 25 euro a persona e il luogo è la piazza d'armi della Rocca il posto più suggestivo che abbiamo a Gradara. Ci piace questa sinergia con Gradara intanto perché è un evento musicale internazionale che potrà misurarsi sia nelle bellezze del castello e del borgo di Gradara e anche poi diciamo in un luogo ovviamente deputato storicamente alla musica come il Teatro Rossini l'occasione importante perché comunque è un'orchestra della città di Mosca o l'orchestra della città di Mosca quindi anche un soggetto importante del puntista musicale una collaborazione con l'Istituto di Cultura Russo in Italia e anche delle voci importanti all'accompagnamento quindi diciamo in immediata continuità con la Rossini a Prafestia che vale il giorno dopo aver salutato il 25esimo di Florez e la presenza del Presidente della Repubblica avremo una nuova serata di musica quindi invitiamo anche chi ancora non l'abbia fatto a prenotarsi per avere appunto il biglietto gratuito per questo spettacolo che crediamo sarà molto importante molto interessante e soprattutto importante in termini di relazioni internazionali con questa orchestra importante che viene da Mosca sono arrivata per la prima volta a Gradara in 2019 e così ho scoperto questa bellissima storia con un bellissimo castello dove la tragica storia dell'amore di Francesca e Paolo si è svolta e ho pensato immediatamente che 700 anni della morte di Dante arriveranno molto presto e sarebbe bello di portare i grandi maestri russi la musica di Tchaikovsky e Rachmaninov in castello di Gradara speriamo speriamo che questo sarà un inizio del bel corso musicale che faremo insieme con la regione di Marche e anche con due belle città di Gradara e Pesaro Ancora la musica accompagnata per questa occasione anche dalla danza sarà protagonista del palcoscenico dell'Arena BCC di Fano Domenica alle ore 21.30 sarà infatti la volta dell'orchestra Sinfonica Rossini Sono tanti anni ormai che collaboriamo con l'Arena BCC con la cooperativa Tre Ponti in modo particolare con l'amico Gino Bartolucci quello che proponiamo è uno spettacolo di musica classica ma anche contemporanea perché il 22 agosto all'Arena BCC proporremo le stagioni di Vivaldi e le stagioni di Piazzolla nel centenario della nascita perché è nato esattamente cento anni fa nel 1921 a marzo del 1921 non saremo soli non sarà solo l'orchestra e naturalmente le stagioni hanno il violino solista come principale interprete ma anche la danza center stage di Pesaro la cui direttrice artistica è Laura Mungerli prepareranno delle coreografie che cercheranno insomma di accompagnare la musica e rendersi anche protagonisti di questo spettacolo quindi vi aspettiamo il 22 agosto all'Arena BCC per questo spettacolo diverso dal solito per l'Arena BCC diciamo che nella storia della musica soprattutto classica ma contemporanea la danza è stata sempre molto presente nella musica classica ci sono tantissimi balletti pensiamo solo a Tchaikovsky il Lago dei Cigni lo Schiaccianoci o Prokofiev o tantissimi altri Stravinsky la Sagra della Primavera diciamo che questa musica che proponiamo noi Vivaldi le stagioni e Piazzolla le stagioni in un insieme di 8 stagioni non sono nate per la danza l'abbiamo voluta accomunare noi perché in effetti le stagioni sia quelle di Vivaldi ma soprattutto quelle di Piazzolla che era argentino quindi la patria del tango si prestano benissimo anche ad essere danzate e stanno per raggiungere al termine i lavori al cantiere della nuova sede di Pisioradi Center noto centro di diagnostica fisioterapica di Pesaro che ha deciso di ampliare i suoi spazi nel quartiere di Vismara sentiamo quindi gli aggiornamenti in previsione dell'inaugurazione del centro fissata per metà settembre nelle prossime interviste le emozioni sono tante perché è stato realizzato un sogno un sogno partito ormai nella mia testa da più di due anni fa e quindi pensando di realizzare questa struttura con un bellissimo progetto verso l'utente cioè riuscire a portare dentro un centro si può dire quasi tutti i servizi sanitari e quindi dire al paziente che quando entra a Fisioradi Medical Center in questa nuova struttura può usufruire di tantissimi servizi sanitari da quello che può essere la visita medica specialistica a quello che può essere la diagnostica e a tutta la fisioterapia e la riabilitazione quindi quello che vorremmo dare oggi al paziente è oltre alla qualità la professionalità il servizio e anche l'ottimizzazione del tempo nella sua giornata e quindi dare in modo che il paziente per fare un percorso terapeutico non faccia mille giri a destra manca insomma quello che vorremmo portare è una nuova mentalità nell'ambito sanitario quello che vorremmo fare recepire alle persone non è solo di andare dal medico quando si sta male ma riuscire a far entrare nella mentalità delle persone anche il concetto di prevenzione quando ha un problema venire a chiedere informazioni da noi e poter partire con noi da là fino a arrivare alla Z quindi arrivare qua chiedere quello che ha bisogno noi naturalmente saremo sempre disponibili per inizialmente un consulto gratuito e far capire cosa può fare da noi quindi a quel punto fare l'accertamento la visita specialistica e poi alla fine se ha bisogno di naturalmente fare un percorso terapeutico seguirlo sul percorso terapeutico oggi dobbiamo capire che prevenire è meglio di curare e quindi proporremo proprio dei pacchetti completi uomo e donna in base all'età quindi over 50 over 60 over 70 perché oggi bisogna capire che non bisogna aspettare di star male perché molte patologie se prese per tempo possono non essere pericolose non essere dannose e in alcuni casi anche salvare la vita della persona siamo partiti da un capannone artigianale che prima era occupato da degli artigiani e dovevamo creare questa struttura per fisioradi abbiamo fatto una scommessa 5 mesi e 5 mesi sono stati sufficienti per realizzare un intervento piuttosto corposo abbiamo creato una struttura medica con 6 ambulatori 8 box per fisioterapia una vasca per terapia un percorso KNIP quindi vasca a caldo freddo una palestra di circa 120 metri quadrati e un polo diagnostico che comprende una risonanza magnetica una TAC raggi X una mammografia e una MOC vi aspettiamo vi aspettiamo numerosi a breve per l'apertura e quindi per il 18 settembre per l'inaugurazione ufficiale e sperando che poi potete non solo vedere e ammirare la struttura ma poter capire l'importanza di una struttura così organizzata con ormai quasi 50 specialisti per ogni branca medica e questa era davvero l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo ora la programmazione della prima serata alle 21.15 andrà in onda lo speciale alla scoperta del Torolski Center l'informazione torna puntuale domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini e alla conduzione ci sarà Marco Cadeddu l'informazione del nostro telegiornale torna invece puntuale lunedì prossimo alle 19.40 e poi alle 20.40 e alle 23.30 grazie per averci seguito in questa edizione un buon proseguimento di serata su Rossini TV